In vent'anni di Russia mi sono interessato del martirio del clero cattolico e ortodosso. Io ho pubblicato questo volume unico in Italia, il martirologio del clero represso in Russia. Perché mi occupo di questo? Perché molti preti usciti dai lager, tutt'ora in vita, novantenni, mi hanno pregato di rompere quel silenzio complice su questo capitolo tragico e di ridare voci ai martiri, quelli cui la voce fu spenta in gola con il colpo di pistola alla nuca. Quanti furono i sacerdoti internati nei lager e in che anni? Dal 17 al 53, dalla rivoluzione bolshevica alla morte di Stalin, i preti incarnati sono stati 2.700 preti cattolici. Di questi 1.500 sono stati fucilati, gli altri liberati dai gola sono stati esiliati in terre di confino o rimandati nei paesi di origine. Secondo lei perché in Occidente non abbiamo mai saputo niente? Perché ahimè qui entriamo in un discorso drammatico, le coperture dell'intelligenza dei partiti comunisti occidentali, per esempio italiane e francesi, a questa pagina tragica, copertura credo consapevole. Questa è una macchia nera atroce su certa cultura di sinistra che ha avuto il controllo della cultura in Italia e in Francia. Lei diceva che è un po' come il gatto pardo, che è cambiato tutto ma non è cambiato niente oggi in Russia. Sì perché attualmente la Russia ha chi ha in mano? Parlo sulla base dei documenti ufficiali. La Russia oggi ha in mano Putin, ex agente del KGB e di tutti i suoi ex colleghi che occupano posizione di potere in Russia. Cioè in sostanza la Russia è in mano al KGB. C'è qualche figura di santo cattolico oppure ortodosso che l'ha particolarmente colpita? Mi ha molto colpito la figura di Santa Maria Scapzova, questa giovane intellettuale che partecipò alla rivoluzione nel 1917. Poi si convertì, divenne cristiana, andò a Parigi perché fu espulsa dalla Russia e lì divenne monaca e dedicò tutta la vita a salvare gli ebrei all'epoca del nazismo, arrestata, deportata in Germania e uccisa a Ravensbrück. Perché mi affascina? Perché fu vittima delle due grandi ideologie del secolo e del nazismo e del bolshevismo. Però questa donna ha saputo morire per la cosa in cui credeva, fedeli all'ideale evangelico fino alla morte. L'ultima domanda che le faccio, cosa ci insegnano noi oggi questi testimoni della fede? Che noi cristiani siamo troppo sonolenti, dormiamo, dobbiamo svegliarci e credo che il messaggio del martirio, che è un messaggio forte, spero che ci metta in crisi, ci risvegli a una professione della fede forte, intensa, appassionata. È quello che ci manca a noi cristiani oggi, ahimè.